A Cremona ci potrebbe essere una sorta di groviglio elettorale tra un anno. Nel giugno 2024 infatti si voterà per le europee, per decine di comuni, tra cui il capoluogo di provincia, e si potrebbe votare anche per l'amministrazione provinciale. Il governo infatti ha depositato il disegno di legge per la riforma. 16 articoli, 14 pagine, che resuscitano le province, così come le ricordiamo, con l'elezione diretta del presidente che, questa è una novità, dovrà ottenere il 40% dei voti validi per essere eletto al primo turno, altrimenti si va al ballottaggio, meccanismo mutuato dalla regione Sicilia. Presidente e Consiglio resteranno in carica 5 anni. Si prevede un iter veloce, la maggioranza potrebbe approvare la riforma entro l'autunno. I consigli provinciali andranno da un minimo di 20 a un massimo di 30 componenti, le giunte variano da 4 a 6 componenti, tutti eletti. A Cremona, Presidente e Consiglio scadranno entro il 2023, ma potrebbero essere prorogati fino al giugno 2024. Il presidente Signoroni apprezza la riforma. Queste mi piace, sono molto favorevole, anche perché è un'iniziativa che è partita non tanto dal governo, ma è partita dal basso, quindi è partita dalle province, dall'UPL e dall'UPL a livello nazionale. Le province erano state abolite dieci anni fa con la riforma del Rio sotto il governo Renzi, riforma che rimase nel guado con il no alla referendum del 2016. È una riforma che ormai tutti stanno dicendo, è rimasta in metà, ha creato ovviamente delle difficoltà. La prima tra tutte è quella economica, sono stati impoveriti e dall'altra anche quella delle risorse umane, perché faccio un esempio, dove in Cremona avevamo circa 700 dipendenti, oggi in organico, senza considerare quelli legati al centro per l'impiego, siamo intorno ai 200, 230, 250 dipendenti. Ema, non dimentichiamo i costi, si parla di 3.000 amministratori in più per una spesa di 225 milioni di euro all'anno. A mio avviso non è una questione di spese, perché se andiamo ad analizzare quello che sta succedendo oggi, il gettito dei nostri contribuenti non rimane nella nostra provincia, ma va direttamente allo Stato. Ma lei potrebbe candidarsi? Questa è una valutazione che lascio da altri, ma non penso che ci sia una mia candidatura. L'importante è che si arrivi, a mio avviso, a quello che è un ritorno corretto e equo per quanto riguarda i servizi e le risorse che devono essere a servizio dei nostri cittadini e nel nostro territorio.